Credo che già questa settimana definiremo il cronoprogramma per le riaperture, perché dobbiamo procedere con cautela per evitare di commettere errori e dover richiudere, mano a mano che il tasso di contagio diminuisce e le vaccinazioni coproni più fragili e dobbiamo riaprire. A breve, il Comitato Tecnico Scientifico inserirà proprio il dato sulle vaccinazioni tra i criteri di valutazione per il passaggio delle regioni da un colore all'altro, così intervenuta la Ministra degli Affari Regionali Maria Stella Germini in un'intervista alla Repubblica. Secondo il capitolo dedicato all'Italia nel rapporto OX dal titolo Going for Growth 2021, la crisi rischia di far calare ulteriormente i tassi di occupazione già bassi e di rafforzare le diseguaglianze soprattutto per chi ha uno scarso livello di competenze e un basso livello di formazione continua. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la priorità essenziale per favorire la ripresa dell'Italia è rappresentata dalla promozione dell'efficienza della pubblica amministrazione, principalmente nell'ottica di migliorare la gestione degli investimenti pubblici e rendere al contempo più efficaci l'assegnazione e il coordinamento dei compiti di attuazione delle varie politiche tra i diversi livelli di governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene alla presentazione della piattaforma online della Dante Alighieri Dante.global. La prima riflessione che pur in presenza di una drammatica pandemia improvvisa nel suo insorgere, veloce nella sua diffusione realmente in tutto il mondo, è possibile non fermarsi, non includersi in se stessi, ma continuare nella propria attività, esolgendo la propria missione, trovando strumenti innovativi. Mentre in Italia si aspettavano con ansia le prime 184 mila dosi del vaccino anti-covid Janssen della casa farmaceutica Johnson & Johnson, gli Stati Uniti sospendono il farmaco dopo 6 eventi avversi, a fronte però di 7 milioni di dosi inoculate. Pochi giorni prima della sospensione in via precauzionale, l'autorità garante della sicurezza dei farmaci americana, FDA, aveva garantito che non esistevano nessi causali tra la somministrazione del vaccino e i coaguli di sangue che a circa due settimane dalla vaccinazione hanno colpito sei giovani donne, tutte di età compresa tra i 18 e i 48 anni. La pausa nella somministrazione voluta dalla Food and Drug Administration ha l'obiettivo di verificare legami tra il farmaco e la malattia rara che provoca i coaguli di sangue. Tale malattia è stata fatale in uno dei sei casi, mentre una seconda donna è stata ricoverata in condizioni critiche. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS